Signor, signor, il prossimo 4 novembre all'auditorium di Isernia ci sarà uno spettacolo incredibile, signor, sì, sì, ci sarà addirittura Maurizio Matteori, Marco Marzocca e Stefano Sarcinelli in uno spettacolo comico spettacolare, sì, è spettacolo, è spettacolare, sì, signor, è normale, se invece era una partita era particolare, invece questo è uno spettacolo, non è una partita, quindi è uno spettacolo spettacolare, un esperimento comico incredibile che non era mai successo prima, mi raccomando, ricorda Maurizio Matteori, Marco Marzocca e Stefano Sarcinelli il 4 novembre all'auditorium di Isernia, ci sarà pure io perché dopo deve pulire tutto, signor, sì, signor. Tu guarda sul calendario, 4 novembre, prossimo, auditorium di Isernia, signor. Maurizio Matteori, Marco Marzocca e Stefano Sarcinelli. Ciao, signor.